Leo Messi ha smesso di seguire Lali Esposito su Instagram e la cantante argentina se n'è vermica e aumentata quando dalla stampa dello spettacolo hanno iniziato a dire che Leo aveva smesso di seguire Lali su Instagram per questa storia. In questo momento Messi era sulla bocca di tutti, non per le sue prestazioni come calciatore del PSG, ma per tutto quel che stava succedendo con l'attrice argentina. Nonostante ciò, subito dopo la verità è venuta a galla. La polemica era stata generata dalla stampa, ma c'era da aspettarselo, dato che Messi normalmente non segue molte donne su Instagram. Potrebbe essere per rispetto nei confronti di Antonella, moglie e madre dei suoi figli, o per qualsiasi altro motivo. Leo preferisce mantenere il controllo delle sue reti e allontanarsi così completamente da qualsiasi tipo di polemica che non ha a che vedere con la sua passione, il calcio. Allora, toda una vita, no? Con Antonella. Y si, ya hace 11 anni che stiamo insieme, si bien non conosciamo da chiquito che stiamo insieme, 10-11 anni. Encaraste dos? Si, si. Bueno, in realtà da chiquito fue un algo mutuo. Amore a primera vista. El creo una identidad, un perfil de personaje que vende eso, además de ser un futbolista espetacular, es un deportista sumamente profesional y una persona con una vida ordenada y familiar. Per Lionel Messi le cose più importanti sono la sua famiglia e il calcio, e per questo cerca di evitare qualsiasi tipo di polemica che lo coinvolga. Il fatto è che nonostante abbia avuto dei problemi fuori dal calcio, come il suo processo tributario con il governo spagnolo, il giocatore argentino si focalizza solo ad essere un fenomeno in campo. La polemica perseguita costantemente Messi, ma per lui questo non è un problema. L'unica cosa che gli importa è consolidarsi ancora di più come leggenda nel mondo del calcio, perché per quanto si dicano cose fuori dal campo, Lionel Messi è un esperto nel mettere a tacere gli altri. A presto! A presto!